La chiesa di Santa Maria della Cattina, qui c'è il sole, qui c'è la metà luna sulla chiesa di San Giovanni degli Arighiti e dietro sono tre animali, un'aquila regale, un cane fedele e un serpente prudente, perché i primitari si dice che fossero regali, prudenti e fedeli. Quattro po' sono i fedeli e quattro po' sono altri i prudenti. Grazie, come ricordo, mi è felissima. Grazie. Grazie veramente, grazie. Noi seguiamo questo, faremo un comunicato stampa di questo incontro, voglio derivare l'incontro di questo incontro e quando pensate che sia necessario sapete dove trovarmi. Grazie infinito, vi accompagno. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille.